Il VEA Resort è una struttura moderna, immersa nel verde, che sorge sul piccolo e ridente borgo di Ciorani, nella valle dell'Irno. La struttura è collocata in punto strategico, nelle vicinanze delle principali vie di comunicazione per Salerno, Napoli e Avellino, dove gli ospiti possono godere della tranquillità del luogo. Per le esigenze dei vari ospiti, il VEA Resort dispone di 39 soluzioni abitative, di cui 5 Junior Suite, 34 camere standard e 5 residence. Le Junior Suite sono spaziose, arredate in stile moderno, fornite di ogni comfort, dai colori in perfetta sintonia con il paesaggio e dotate di terrazzino indipendente, tutte con vista sulla splendida vallata. Le camere standard, accoglienti e confortevoli, racchiudono uno stile essenziale e funzionale. Entrambe le soluzioni sono complete di frigo bar, tv, telefono con linea diretta, connessione wifi, cassaforte ed aria condizionata con controllo automatico. I residence, invece, sono l'ideale per chi desidera trovare tutte le comodità della propria casa, con il vantaggio di un servizio assistenza 24 ore su 24. Al ristorante Il Tirso potrete gustare sia i piatti della tradizione regionale e nazionale, rivisitati in chiave moderna, sia un'ottima pizza. Il menù variegato, preparato con i migliori prodotti regionali, risponde alle esigenze di ogni palato. Inoltre, la cantina del Vea Resort è fornita dei migliori vini selezionati della regione Campania, che ben si sposano con i piatti proposti dallo chef. A completare l'offerta gastronomica, il bar, ideato per accogliere sia gli ospiti dell'albergo, sia ospiti esterni, dove anche un semplice caffè diventa un momento di intenso piacere, dotato anche di postazioni internet e wifi. La piscina del Vea Resort è il luogo ideale per rilassarsi e staccare dalla routine della vita quotidiana e per rigenerarsi con i suoni e i profumi che solo la natura sa offrire. La sala Belvedere e la sala Panorama, dall'impatto visivo affascinante, caratterizzate da un design moderno, sono la cornice ideale per coronare i vostri sogni, ma anche per organizzare meeting e convegni. Il Vea Resort augura a tutti una buona permanenza. Grazie a tutti.